vengono controllate dalle loro forze. Onorevole Panzeri. Grazie Presidente. Nulla può giustificare quanto è successo e mi sento di dire che ci siamo trovati di fronte ad un atto di brutale dilettantismo da parte israeliana. Forse non c'è ancora un'adeguata consapevolezza nel gruppo dirigente israeliano che la sicurezza di Israele si ottiene solo se il processo di pace fa passi avanti e non attraverso l'innalzamento della tensione. In questo quadro la risoluzione presentata al Parlamento è un'importante risposta di questa istituzione sulla difficile questione di Gaza. Tuttavia questa vicenda, nella sua drammaticità, impone all'Europa un deciso salto di qualità nell'affrontare la questione medio orientale. Signora Aston, penso che lei sia consapevole che oggi occorre un nuovo protagonismo dell'Europa, un'azione più forte che si ponga l'obiettivo di rimettere sulla strada giusta i negoziati indiretti, faccia interrompere questa insensata politica degli insediamenti e elimini il blocco a Gaza. Il Parlamento europeo con la risoluzione offre un importante punto di riferimento. Lo si utilizzi perché l'azione europea possa fornire seriamente un contributo al superamento del conflitto e alla sconfitta di tutte le posizioni estremistiche e al raggiungimento dell'obiettivo dei due Stati. Grazie. Onorevole Lambsdorff, grazie signora Presidente. Alle vittime del 23 maggio va la nostra profonda tristezza. Gli amici non possono lasciare che i propri amici...